Quando ero piccola mi venivo sempre a nascondere qua sotto quando qualcuno mi faceva arrabbiare. Una volta mi hanno cercata per tre ore e io sentivo le voci, vedevo i piedi, tutto. Io da piccola piangevo molto. E tu? Non sono stata io. Che cosa è successo ieri? Fammi ballare, Stefano. Sai, non credere che bisogna inventarsi sempre tutto. È così fino a che non ti accorgi che vivi qualcosa di vero. Grazie facolti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.